Ciao a tutti ragazzi e bentornati, anzi no benvenuti in questo bellissimo giorno chiamato io mi prendo iDub della Microsoft, molto carino, o almeno per me, sono pronta a sfidare Paolo, è un gioco tipo calcio per il gioco, io mi prendo il taco, un taco che vuole al sms, è un gioco soltanto disponibile, sia per pc, sia per... vai taco, vola taco, vola! oddio, 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 oh, oh, è gol, è gol, io sono evitato eh, sono le 3 punti madallo che non hai fatto rimbazzare, ah, non hai rimbazzato, ah, no, 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 no! vabbè, comunque ti ringrazio per il tuo slavido tocco, oh, ma che so? madonna che... quattro vari no, no, che tolgogo, no, no, è infocato! No, è infocato! Allora, essere infocato è... è obbettuto! Empore! No, vabbè, uff... Paolo, vai! Oh, grande, grande Paolo! Oh, 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 la mano è incollata, Ciancia, la mano è incollata! Oh, oh, vai Gatti! Oddio, vai, vai! Si accelera, si accelera! Ah, sto vincendo io perciò mi sto bene! Tanti sanga! Si è mai visto! Si è mai visto, di me non ce l'ho detto! Donna mia! Madonna, i miei grandi numeri, i grandi numeri! No! Guarda che gol! Ma come? Io ci ho tirato da là, non me l'ho andata mica sui carini! Davide! 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 Pirorigina, per il mio soldi! Si sa compresa il moltiplicatore! L'ho preso Paolo! E sono 4 punti per 9! Quattro punti terno. Oddio, oddio, gol! Oh, gamba! Non mi scegliere le mani! Ho parlato, io qua, io qua! Adesso, spero che capitano un giudino che sta qua. Vediamo, eh! Il tempo di volo. Eh no, ma sono da madre! Vediamo! Vediamo, vediamo, vediamo! Vediamo, vediamo! Oh no! Eh, così lo faccio! Nooo! Che mi sono mangiato! Nooo! Ah! E se non c'è soltanto, lo dico io! Oh! 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 E allora che come l'ho, te lo faccio, no? Ah, signor! 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 Sei va a pesce! Ah, signor! Ah, signor! Che mi sono mangiato! Ah! Che mi sono mangiato! Che mi sono mangiato! Ah! Che mi sono andato a partecipare! Come prima mia! Eh, vabbè! Asta che Emiliano ci rapprescerà mai allora! Asta che Emiliano non ci rapprescerà mai quella vita! E la vita, allora! Alleluia, ho preso anche il modificatore, oh grande, guarda tu, no, 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 per quelità, ma per quelità, per quelità, per quelità. Ehi, va bene, hasta che viene aperto, hasta che viene aperto, hasta che viene aperto, hasta che viene aperto, oh, un tago so che si vede, sì, ma che cosa serve, che serve, che serve, eh, paolo prende le cose, Siamo, dassciti le cose, da un punto, per un grande, per un rispetto, per un rispetto,씨 e insieme per un po' fortuna che l'ho segnato un po' di cose Paolo ha un sacco di fortuna e Paolo ha un sacco di fortuna e invece no ha vinto la colazione va bene comunque questo era iDARB ditemi se lo volete e ciao a tutti ciao ciao